Innanzitutto, che cos'è un flusso di lavoro? Nella sua forma più semplice è una ricetta, ovvero una serie di istruzioni che partendo da certa materia prima, per così dire, ci permette di ottenere un certo risultato. Naturalmente, dal momento che la realtà è complessa, un flusso di lavoro spesso, per non dire sempre, prevede delle alternative esprimibili in forma condizionale, ovvero, prevederà delle alternative esprimibili come se si verifica una certa situazione, fai questo, altrimenti fai quest'altro. Va detto in questo senso che il PPV non è un flusso di lavoro totalmente automatizzabile. Immagini diverse possono presentare caratteristiche così differenti tra loro che è praticamente impossibile dare regole precise e rigide per intervenire su ciascuna di esse. Quindi, non può esistere un PPV realizzabile con un solo, unico clic sul tasto di un pannello. È invece possibile prescrivere quali siano le operazioni più opportune a seconda della tipologia delle immagini in questione. Questo non è un limite, ma una ricchezza del flusso di lavoro che andremo a esaminare, anche perché lascia le operazioni che andiamo a fare aperte a una variabilità che in ultima analisi riflette la libertà di certe scelte artistiche, oltre che tecniche, che dobbiamo poter fare quando lavoriamo su un'immagine. Va detto però che le singole operazioni del flusso di lavoro sono, invece, automatizzabili. E i più recenti sforzi di Dan Margulis vanno proprio in questo senso. È attualmente in lavorazione un pannello per Photoshop dedicato al PPV, che sarà disponibile gratuitamente a partire dall'autunno 2011. Di questo pannello non sono in grado di mostrarvi ancora un'anteprima, benché ne esista una versione ampiamente funzionante che sto testando assieme da alcuni colleghi italiani, a loro volta allievi di Margulis. Naturalmente, non appena sarà disponibile, integrerò questa lezione in modo da mostrarvi il funzionamento del pannello PPV. Ma essenzialmente, il pannello avrà la funzione di automatizzare sequenze più o meno complesse di operazioni, in maniera simile a ciò che fa il pannello CPT, ovvero Channels Power Tool, che vi sto mostrando in questo momento. Channels Power Tool è un'utilità di manipolazione dei canali prodotta da Giuliana Abbiati per RBG, il Roberto Bigano Group. Il pannello conterrà quindi una serie di tasti che corrispondono alle principali operazioni previste dal flusso di lavoro, le quali si ridurranno in tale contesto alla semplice pressione del tasto opportuno. Dobbiamo quindi iniziare a esaminare i punti principali del nostro percorso operativo. Prima, però, andiamo ad elencare nella prossima lezione quali strumenti ci serviranno per lavorare. Grazie. Grazie.